Ciao a tutti, adesso vediamo di spedire questa della Stratosfera Guarda, lo sentite da questo parco Viene mai al primo tentativi, guarda, quindi andiamo a passare Siete avanti? Passato? Grazie a tutti, ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao a tutti Adesso mandiamo questo quasi nella Stratosfera Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao a tutti Riproviamo ancora una volta questo Sperando che i bambini di merda Non vengono a cagare il cazzo Visto che è la quarta volta Cercherò di mandarle della Stratosfera Se gli fanno venire un'ernia Perché gli stronzi stanno sempre in mezzo alle palle E soprattutto perché non gli è passato più la quarta volta che spingo Quindi andiamo più in alto in alto Allora? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cazzo, ammazzateli, continuano a fare casino, io non li sopporto più. Ciao ciao.